Ragazzi ci troviamo con questo nuovo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un bel like per cominciare Oggi voglio parlare del sistema anti-cheat che ha introdotto la Rockstar, un sistema automatico che ci toglierà tutti i milioni che abbiamo ricevuto attraverso il mod, attraverso il cash dropper Quando noi andiamo a mettere i soldi in banca ci uscirà un messaggio del genere che c'è stato un errore mentre noi inserivamo i soldi in banca e quindi sono stati rimossi Un metodo c'è per evitare che ci esce questo messaggio tipo come ho fatto io che ho ricevuto 60 milioni ma non l'ho messo in banca appena ho ricevuto questa notizia non l'ho messo in banca Tanto 200 dollari alla volta non ci possono togliere di più, massimo 500 dollari alla volta ogni volta ma non succede niente Non so se con questo anti-cheat uno viene anche bannato visto che gli vengono tutti i soldi quindi viene di sicuro segnalato la Rockstar Quindi non so se uno viene bannato Comunque per questo video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale per supportarmi Presto farò un raduno su GTA Online però pubblicherò il video 48-24 ore prima del raduno quindi state tranquilli che quando c'è il raduno pubblicherò il video E mettete un mi piace per supportarmi così cresceremo insieme Per questo video è tutto noi ci vediamo con un prossimo video